Il fitness del futuro arriva a Massafra. Il nuovo centro sportivo Luxury Fitness, ad una settimana dall'inaugurazione in cui erano presenti il sindaco Fabrizio IV e il parco della chiesa di San Leopoldo Mandic, il Don Michele 40, è pronto a far conoscere il futuro dell'allenamento personal. Nutrizionisti, fisioterapisti ed istruttori qualificati ISEF, oltre ad un servizio dedicato e personale, vi aspettano a Luxury Fitness in via del Santuario 42 al fine di raggiungere il benessere del vostro corpo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS